bene siamo live ragazzi buonasera buonasera a tutti sono un po giallino stavo guardando ma non so se mi sono messo a fuoco innanzitutto ecco adesso siamo un po a fuoco e ciao la m ciao fabio ciao bona e ragazzi oggi è il momento no update sul mio conto economico e sullo stato patrimoniale come al solito l'ho fatto di fretta in fretta e furia non riesco mai a dedicargli a questa cosa che è così importante il tempo necessario che mi permetta di andare ad indicare spesa su spesa che tipologia di spesa è se rientra nella categoria a nella subcategoria e continuo a rimandare ma prima o poi mi fermerò e lo farò anzi domani ho un lungo volo aereo potrebbe essere proprio domani il momento in cui mi fermo e vado un attimo a a rimettere a posto a rimettere a posto questo file excel e stavo guardando un pochino stavo guardando un pochino qui che succede ok stavo guardando che succede sui mercati finanziari ragazzi scusate ciao daniele ciao matteo e ciao a tutti adesso cominciamo ai ragazzi c'è una cosa che stavo ciao emma c'è una cosa che stavo guardando ed è la seguente aspettate che condivido lo schermo condivido lo schermo ed eccoci qua bitcoin perché parto con il grafico di bitcoin che ne sta ne stanno parlando tutti quanti ne ho parlato anch'io nel video di domenica e oggi tra l'altro ho un'idea che potremo farci con quel video oggi piccola flessione 4 per cento siamo a 65 mila e 6 quindi dai massimi che sono stati baciati a 68 mila siamo tornati un pochino indietro ma perché parto con questo grafico odiato e amato allo stesso tempo da da molti me compreso è perché ragazzi vi devo far vedere lo stato patrimoniale e per farvi vedere lo stato patrimoniale eccolo qua vi devo parlare di bitcoin perché il mio stato patrimoniale ha fatto un salto importante aspettate che vada ad ingrandire un po' questo è il patrimonio netto attuale con un totale attivo quindi 4 milioni 671 con un totale attivo di 5 milioni 137 un totale passivo di 465 mila 850 quindi queste sono le mie passività totali queste le mie attività totali beh chi mi segue da un po' e segue questi update avrà capito che c'è stato un balzo in avanti importante e secondo voi questo balzo importante in avanti da che cosa è di peso scrivetemelo qua un attimo in chat e così lo andiamo a capire vi do un consiglio non il bitcoin c'entra qualcosa ok e c'entra qualcosa anche questo ilon musk non è più l'uomo non è più l'uomo ricco non è l'uomo più ricco del mondo secondo forbes no c'è questa questa gara che ogni volta si fa è stato superato di nuovo da jeff bezos e non è che vi sto facendo vedere questo perché io sarò il prossimo miliardario e supererò un certo punto ilon musk no per farvi capire che lo stato patrimoniale quando avete una componente estremamente volatile al suo interno come per esempio è il mio caso e ve lo farò vedere oggi beh vi potete aspettare che il vostro patrimonio netto sarà altamente volatile la volatilità ragazzi agisce in due direzioni è positiva e ci piace quando la volatilità agisce verso l'alto e per me volatilità che agisce verso l'alto che cosa significa beh significa questo significa vedere un asset che magari c'è nel portafoglio che prende e parte e volano e dai 39 mila dollari di qualche giorno fa ti passa praticamente ai 65 mila no ha fatto più del quant'è il 60 per cento dai dai picchi sì il 60 per cento 70 per cento da dal valore di oggi e però attenzione che la volatilità agisce anche al contrario è e bitcoin questo ce l'ho fatto vedere nell'ultimo periodo non è che agisce solo quando deve darci delle gioie ma agisce anche guardate qui i crolli quando ci deve dare delle bastonate e quindi che cosa succede a questi mega ricchi lo mas che jeff bezos perché si superano un mese l'uomo più ricco del mondo è uno il mese dopo è l'altro perché il loro asset e il loro stato patrimoniale dipende dall'andamento delle azioni delle aziende che possiedono tesla per ilon musk e amazon per il nostro jeff bezos ecco che quindi al variare all'apprezzarsi o al deprezzarsi di questi del valore di queste aziende si deprezza o si apprezza il loro stato patrimoniale bene ed è quello che sta succedendo a me in questo periodo ecco perché vi ho voluto prima far vedere questa questa cosa torniamo qui sul mio stato patrimoniale e andiamo a vedere che cosa è successo andiamo a vedere che cosa è successo soprattutto sulla parte degli attivi perché nulla è cambiata sulla parte dei passivi sulla parte degli attivi ragazzi abbiamo avuto un cambiamento in positivo sul mio portafoglio di lungo termine quindi un milione e duecentocinquantatremila continua a crescere il mio portafoglio di lungo termine no questo è il portafoglio che io chiamo la mia pensione è quello che a un certo punto quando raggiungerò un determinato livello andrò piano piano a migrare verso un portafoglio che ha l'obiettivo di generare rendite passive questo è l'obiettivo di quel portafoglio che vuol dire vuol dire che sposterò da un portafoglio che è più sbilanciato adesso sulla parte growth perché adesso è un portafoglio che voglio far crescere quindi ha una componente azionaria con settori e asset class e sottostanti che tendono a crescere nel tempo perché voglio che cresca la mia liquidi del mio portafoglio e quindi questo portafoglio si ingrandisca fino ragazzi vedete bene avere componente growth maggiore in un portafoglio componente di crescita vuol dire che il vostro portafoglio sarà comunque soggetto a volatilità guardatelo bene fotografate questo stato patrimoniale perché mi aspetto che è assolutamente plausibile che tra qualche mese se il mercato dovesse stornare in maniera forte questo milione e due possa diventare tranquillamente 800 mila euro 900 mila euro andare sotto al migliore perdere 300 mila euro nel giro di poche settimane com'è possibile questo marco è possibile perché è un portafoglio sbilanciato sul beta sbilanciato su aziende che tendono a sovra performare gli indici di riferimento s&p e nasdaq ma che quando quindi questi indici invertono e vanno verso il basso indovinate un po le aziende ad alto beta che cosa faranno sotto performeranno quindi questo va tenuto in considerazione esattamente come il nostro ilon musk e jeff bezos hanno la loro il loro stato patrimoniale che gli oscilla magari di 50 miliardi in un mese ecco a me oscilla di 100 200 mila euro ogni mese a loro oscilla di qualche miliardo questa è un po la differenza tra chi è miliardario e chi sta entrando nel nel suo primo milione no però questo andando ad analizzare il mio stato patrimoniale quello che è successo al portafoglio di lungo termine il mio portafoglio di breve termine si è un po apprezzato quindi è un po cresciuto di valore questo ragazzi è il portafoglio che gestisco con investimenti più su breve termine facendo speculazione facendo trading che per me far trading non vuol dire attenzione uno pensa a marco è un trader quindi marco sta 30 ore al giorno davanti grafici con time frame a un minuto a fare no non è questa la mia modalità di far trading perché la mia modalità è invece una modalità più tranquilla è una modalità che utilizza time frame solitamente a un'ora quattro ore o giornaliero e questi time frame mi permettono gestire il mio i miei investimenti speculativi ma sempre senza non dover passare cinque sei ore al giorno davanti al allo schermo e comunque portarmi a casa la mia performance quindi questo portafoglio utilizzo la macroeconomia io quindi diciamo i miei posizionamenti solitamente sono posizionamenti che durano almeno tre o quattro giorni qualche posizionamento se ho preso un bel trend rialzista ribassista a seconda che sia in acquisto in vendita possono durare qualche mese questo però è un po il mio orizzonte temporale e anche da questo punto di vista il portafoglio è cresciuto perché se vi ricordate stavamo sotto i 100 mila euro il mese scorso obbligazioni non ho niente non ho rimpolpato la parte di obbligazioni e poi c'è la parte di cripto ragazzi beh la parte di cripto ha fatto un bel salto in avanti quindi quello che era circa 500 550 mila euro sono diventati 850 mila quindi questo risponde un po tutti quelli che mi dicono marco ma tu di bitcoin parli sempre male ma è perché non ha mai investito in bitcoin è perché probabilmente ti starei mangiando le mani quindi che lo faccia per invidia non capisco come si possa generare questo pensiero comunque so che chi lo dice evidentemente non mi segue perché se mi seguisse il mio canale sa che io parlo di bitcoin dal 2016 sul canale youtube e il mio primo i miei primi incontri con bitcoin risalgono al 2014 di 2013 2014 mentre all'inizio ho fatto speculazione nel mondo delle cripto dal 2017 mi son detto basta le utilizzerò come asset di lungo termine visto l'enorme volatilità saranno le mie high yield bet cioè la mia scommessa ad alto rendimento scommessa pesata scommessa ragionata perché è un mondo che conosco non è che metto i soldi su una meme coin e spero che faccia il 700 mila per cento no e ormai il mio portafoglio in criptovalute si è ridotto sempre di più cioè è sempre più concentrato su pochi cavalli di razza dove il cavallo di razza numero uno non ce lo nascondiamo è bitcoin il secondo ethereum perché ragiono ovviamente su market cap per me questo è un asset finanziario a tutti gli effetti ora cosa succede succede che nel tempo dal 2017 ad oggi rimpolpando piano piano il portafoglio e quindi investendoci investendo cosa investendo quello che mi avanzava dai risparmi è cresciuto nel tempo siamo ai massimi storici il portafoglio è tornato a quelli che erano i valori di quando era ai massimi storici e questo valore lo può superare vi la verità adesso mi sorge un problema non indifferente qual è il problema secondo voi che la mia esposizione sull'asset delle criptovalute è praticamente quasi paritaria è di poco inferiore all'esposizione sul portafoglio di lungo termine quindi che cosa vuol dire che sono molto molto esposto sul sono molto molto esposto sul alla volatilità e vi dico la verità più divento grande e più cresco più mi avvicino a quella che è mentalmente è la è l'età in cui voglio scalare di marcia non voglio smettere di lavorare ma voglio lavorare meno diciamo con meno intensità perché adesso ragazzi qui si lavora dieci dodici tredici ore al giorno lo faccio con piacere perché la mia passione non ho mai lavorato un giorno della mia vita e questo mi sento questa è la mia vera grande fortuna però a un certo punto quando sei più grande vuoi anche un attimo goderti quello che hai costruito e magari dire di no a tanti cose tante idee a tanti progetti concentrarti su meno cose magari arrivare a dedicarsi alle proprie passioni invece che dieci ore al giorno magari dedicarsi sei ore al giorno e l'altro tempo dedicarlo a alla famiglia ad altre passioni eccetera e adesso mi domando quando è quando arriverà il momento quando dovrà arrivare il momento in cui dovrò cercare di diminuire questa esposizione perché diventa troppo grande quindi qual è la mia idea la mia idea a un certo punto sarà quella di diminuire attenzione non chiudere o eliminare diminuire l'esposizione sulle cripto quindi immagino facciamo un esempio facciamo un esempio che qui arriviamo a un certo punto a un milione ok magari ad arrivarci giusto e magari ci arriviamo però un giorno del resto se se avessi pensato nel 2017 che sarei arrivato investendo così pochi poco denaro sarei arrivato a questa cifra sarebbe stata impossibile comunque a un milione quindi mi do a una cifra a quel punto immagino che se bitcoin sia arrivato a quel livello è perché sia cresciuto anche il portafoglio di lungo termine magari è arrivato a un milione e tre non lo so fatto sta che la mia idea è quella di togliere una parte magari qua di mezzo il portafoglio e quindi chiudo fondamentalmente adesso ho detto il 50 per cento chiudo 500 mila euro in termini di equity e dove secondo voi dove le vado a mettere le vado a mettere qui dentro o meglio qui su questo potrei ragionare devo ragionare anche sulla tassazione adesso sto ragionando sui netti è però bisogna ragionare sulla tassazione però un'idea potrebbe essere ok questa liquidità o la metto sul portafoglio di lungo termine per accelerare l'obiettivo a cui voglio arrivare c'è un obiettivo di dimensione del mio capitale da gestire per il lungo termine perché perché voglio che ad un certo punto arrivi a generare una rendita passiva attraverso i dividendi considerando il worst case scenario cioè lo scenario peggiore ovvero quello in cui devo vivo in italia vivrò in italia devo pagare la doppia tassazione sui dividendi più la tassazione sul capital gain in italia quindi quello è il calcolo che sto facendo per pensare quanto deve essere grande il mio il mio portafoglio per coprirmi tutte quante le le mie spese e anche qualcosa di più perché la vita è piena di imprevisti quindi ricordatevi sempre che almeno questo è come ragione ragiono io io sono sempre poco ottimista quando ragiono in termini di denaro e ho sempre un cuscinetto di sicurezza che cosa vuol dire vuol dire che se oggi a me servono 30.000 euro l'anno per coprire tutte quante le spese e magari me ne servono altre 10 per vacanze eccetera diciamo che a me servono 50k l'anno quelle sono le mie uscite che coprono il mio stile di vita perché io non voglio abbassare il mio stile di vita ecco aggiungiamoci un cuscinetto che potrebbe essere una sorpresa piacevole o meno piacevole sorpresa piacevole quale potrebbe essere un figlio adesso siamo in due io e mia moglie e viviana e sapete più facile fare i calcoli ma se arriva qualcun altro nella vita aumenteranno anche le spese e quindi quello è un cuscinetto che voglio aggiungere l'altro cuscinetto è quello degli imprevisti meno piacevoli invece le sorprese spiacevoli che sono quelle della salute quindi più si diventa grandi più si è esposti dal punto di vista della salute e più dovrete spendere si dovrà spendere e non lo auguro a nessuno e non lo auguro nemmeno a me ma è su quello che sto ragionando quindi quelle 50k magari diventano 70k con questo cuscinetto ecco io so che il mio portafoglio deve generare al netto della doppia tassazione dei dividendi al netto della tassazione dei capital gain mi deve generare circa 70k per stare tranquillo quello è l'obiettivo adesso ho fatto dei ragionamenti così veloci vi assicuro che nei miei excel ho dei ragionamenti molto più precisi no ma sto lavorando per quello e non vorrò avere quando sono grande un portafoglio che ha delle oscillazioni del più 60 per cento in quattro mesi e del meno 70 per cento in un mese questa questa è una verità con bitcoin e col mondo delle cripto in generale quella volatilità io non la voglio quando sarò grande la posso accettare ad assorbire adesso o meglio la potevo assorbire prima tranquillamente perché ero giovane e era ancora distante il mio obiettivo di vita di da rendita da rendite passive ma mano mano che mi dicino questa volatilità non la voglio più e quindi andrò a o a fare altri investimenti potrei quella liquidità usarla per esempio per fare degli investimenti immobiliari e generare un reddito da affitto questo dipenderà molto da dove vivrò se vivrò in italia vi dico la verità per come sono messe le cose in italia investire in immobili in italia per generare un affitto è piuttosto pericoloso perché sei poco tutelato dalla legge e quindi questo rischio ci porta almeno porterebbe me a non usare quel tipo di investimento si potrebbe pensare a invece ad affitti di breve termine affitti massimo che hanno 12 mesi come come estensione airbnb se funzionerà ancora airbnb esisterà ancora airbnb però questa potrebbe essere un'idea no diversificare in modo tale che nemmeno sono così tanto esposto solo sull'asset finanziario bene vi ho condiviso un pochino vi ho condiviso un pochino di idee c'è un'altra idea la m me lo scrive qua ed è corretta è un'altra idea corretta però ti dico perché che cosa scrive la m o chiudi le tue passività cioè quello che dice ok marco togli da qui questi 500.000 e vai a chiudere le passive questo è lo stato patrimoniale dei passivi o per ora di passivi ne ho solo due ed ho un totale di 465.000 euro di passivi è il mutuo della mia prima casa quella in cui vivo qui ad amsterdam che però nel mio futuro nel futuro che abbiamo immaginato con viviana sarà un asset che genererà un reddito non lo è oggi ma quella è l'idea e oggi quindi è un passivo a tutti gli effetti e questa è il prestito che ho preso la mia azienda per pagare l'acconto di casa quindi queste sono le due gli abilities i due passivi che ho e quindi potrei effettivamente guardate facendo questo calcolo un po' veloce se qui fosse un milione togliere il 50 per cento questi 500.000 euro coprirebbero tutti i miei passivi e quindi eliminerei i passivi qua però c'è un discorso da fare no un discorso di tipo economico convenienza economica e cioè se questi prestiti li ho presi a con tassi di interesse molto bassi ed è questo il mio caso la m per rispondere a te che hai fatto l'osservazione probabilmente se quella asset ovvero la casa genera una rendita e quindi non è più la mia prima casa ma genera una rendita perché ci sono persone in affitto e considera che casa che ho qui ad amsterdam ad oggi dovrebbe avere un affitto di circa 3.200 3.500 euro con un interesse molto basso potrei pensare semplicemente di continuare perché quello diventerebbe un debito buono non più un debito cattivo e potrei portarlo avanti anche se non ti nascondo e forse l'hai detto perché mi conosci da un po' il mio obiettivo è di arrivare a 55 anni senza debiti quindi vorrei estinguere i miei debiti quindi questi 400 mila euro li voglio estendere entro li voglio scusate li voglio estinguere entro quella data sono 400 mila euro da estinguere ed è per questo motivo che tra l'altro che ho fatto un down payment finora i primi due anni del mio mortgage del mio mutuo abbiamo fatto io e mia moglie viviana abbiamo fatto un down payment anche se con l'interesse che dell'un per cento economicamente non ha convenienza però questa è più una mia tranquillità vorrei arrivare a quell'età a quell'età a e smettere di smettere di avere debiti ok ecco esatto perché giustamente la m mi fa notare evidentemente segui tutte le mie dirette che se dovessi cambiare da prima casa a casa che invece genera un reddito e quindi in affitto a quel punto devo cambiare il mutuo e bisognerà vedere che tipo di mutuo in quel momento storico andrò a stipulare magari sarà un mutuo alto magari i mutui sono rimasti alti in quel momento storico e chiudo un mutuo al quattro e mezzo per cento considerate che quando ho chiuso il mutuo della prima casa all'un per cento come mutuo prima casa personale se avessi fatto un mutuo per una casa da reddito quindi come seconda casa che poi avrei affittato avrei pagato il tre e mezzo per cento quindi il differenziale è alto quindi potrebbe succedere che chiudere potrei chiudere al quattro e mezzo cinque per cento che così ad occhio non è che mi piaccia troppo però vediamo questi sono ragionamenti che uno fa nel momento in cui deve ecco poi c'è joshua che scrive ai due milioni e stai qua va allora joshua ti spiego alcune cose un po della mia vita ok questa è la mia passione non è il mio lavoro io sto qui non perché devo guadagnare dei soldi o perché devo fare chissà che cosa io sto qui perché mi piace essere qui perché ho scelto di essere qui lo faccio perché mi diverte lo faccio perché mi piace condividere con voi quello che imparo nella mio e ho imparato nel percorso che mi sta apportando spero a alla libertà finanziaria che per me vuol dire solo una cosa libertà finanziaria per me vuol dire semplicemente avere il controllo totale dei delle mie finanze questo vuol dire libertà finanziaria perché quando hai il controllo puoi permetterti di prendere decisioni più consapevoli puoi permetterti di sapere cosa dire cosa fare quando non mi divertirò più di far questo non mi vedrai più sul canale quindi se un giorno ti collegherai il mio canale youtube e non ci sarò più io o mi sarà successo qualcosa di brutto o semplicemente non mi piacerà più non mi diverterà più non avrò più quella voglia di non vedo l'ora di alzarmi dal letto per fare il video di oggi parlare con voi oggi di delle mie esperienze di quello che ho imparato di cosa succede nell'economia di cosa succede nei mercati finanziari quando non avrò più questo questa voglia non lo farò più non ti preoccupare di questo nel frattempo porta avanti i miei progetti i miei progetti sono i servizi che offro i miei progetti sono le mie consulenze i miei progetti sono la mia applicazione quantitativa porto avanti queste cose quelle sono le revenue delle mie attività ok e poi c'è edoardo che dice sì marco va bene tutto ma vogliamo vedere i conti non excel edoardo chi sei il mio commercialista sei mia madre no perché in realtà manco mia madre li vede i miei conti ok non li vede nemmeno mia moglie i conti quindi non stiamo qui per vedere vedete quando mi scrivete queste cose ragazzi quello che penso è che siete qui per il motivo sbagliato noi qui stiamo ragionando e non sulle cifre in sé a me quello che piace pensare che voi siete qui per ascoltare la mia esperienza e come faccio certi ragionamenti e io sto qui per apprendere i vostri ragionamenti le vostre critiche le vostre i vostri suggerimenti per me queste dirette sono uno scambio forte importante che accresce anche me non accresce solo voi che state dall'altra parte quindi vuoi vedere i miei conti perché cosa per sapere che cosa per sapere se c'ho veramente un milione e duecentomila euro nel portafoglio di lungo termine o per sapere se c'ho veramente 1850 mila euro di di criptovalute e quindi quello che cosa dimostrerebbe che cosa dimostrerebbe quello perché io non sto qui per farmi bello brutto sto qui per riportare un'esperienza che è la cosa più importante se quello invece di essere un milione erano 12 mila euro che cosa cambiava dal punto di vista didattico cambiava poco e niente perché avrei fatto gli stessi ragionamenti in entità diverse economiche sì assolutamente ma che cosa cambiava a te che stai dall'altra parte perché io credo che sia importante e interessante il percorso da condividere insieme non il numero ok perché io quel numero può poter essere anche 10 milioni e poteva essere finto ma non è quella la cosa importante ecco perché non ti serve a niente venire a vedere i miei conti i miei conti li vede il mio commercialista punto non li vede nessun altro ok perché non c'è bisogno non perché sono cattivo poi un giorno se vieni qui ad amsterdam viene a trovare diventiamo amici ci beviamo qualcosa insieme una sera magari così dopo che c'è confidenza dopo che si è creata confidenza posso anche far vedere i conti ma quello magari a un mio amico che me lo chiede dopo anni che lo conosco giusto ecco qui è ma j ai ai milioni e stai qui bella per te massima stima per chi come te riesce ad essere libero eh ma in realtà non mi sento libero ti dico la verità poi magari ve lo dico anche perché non mi sento libero mi sento di stare facendo la strada che devo ok una strada che ho cominciato a tracciare vent'anni fa ho cominciato a tracciare quando avevo 24 25 anni perché a dire la verità fino ai 24 25 anni ero pessimo pessimo dal punto di vista della gestione finanziaria ve l'ho già raccontato gli errori che ho fatto gli errori che ho fatto con la mia partita iva gli errori che ho fatto con i debiti gli errori che ho fatto con le spese li trovate i video sul mio canale youtube però poi da 24 25 anni per fortuna ho cominciato a mettere la testa a posto ho capito tante cose le ho capite a mie spese tante cose e quindi ho cominciato a tracciare a percorrere questa strada che non è assolutamente finita è una strada che dove mi porterà non lo so spero che questa sia la direzione giusta credo che la sia guardando i numeri guardando quello che faccio guardando quello che posso permettermi di fare ma soprattutto vi dico guardando quello che posso permettermi permettermi di non fare perché come vi come ci diciamo sempre l'asset più prezioso non sono questi numerelli qua un milione due milioni mezzo milione centomila euro ragazzi l'asset più importante è il tempo i soldi comprano il tempo comprano altro si comprano che comprano lusso comprano le stupidaggini che che ci di cui ci riempiamo dentro casa comprano la bella macchina ma quelle quelle non è non sono cose importanti nella vita non lo sono affatto sì esatto poi magari è come la m dice sì eduardo e poi qualcuno dirà che sono taraccati con photoshop che così non si finisce più ma infatti e la m sai visto io ogni trimestre faccio vedere il mio conto su interactive broker che è il mio broker dove c'è il mio portafoglio di lungo termine ovviamente oscuro i dati e oscuro i dati sensibili ma si vede la mia equity line eccetera e non sai quante persone mi dicono sì vabbè quella è taroccata con con photoshop nonostante io lo faccia praticamente in diretta con i grafici che si muovono all'interno della pagina però come al solito la cosa importante non è quello non è quel messaggio che voglio trasmettere con questi video e se state qui per vedere se c'ho più di voi o c'ho meno di voi secondo me non non imparate niente voi non imparo niente io non c'è scambio non serve a niente veramente allora ma signora mi dice scusami marco ma se un investitore volesse esporsi su bitcoin ma tramite etf cosa cambia rispetto al fatto di averli su wallet allora innanzitutto se compri l'etf tu non stai comprando fisicamente bitcoin quindi non possiedi bitcoin stai comprando un fondo che lui è il proprietario quindi tu non potrai mai accedere e poi conservare perché non sarà mai tu stai investendo in un asset finanziario che replica il prezzo di bitcoin questo stai facendo quindi questa è una differenza è una differenza importantissima che dovete capire l'etf ha determinati vantaggi però anche degli svantaggi così come bitcoin ha dei vantaggi e degli svantaggi no allora allora giovanni mi dice per quanto riguarda le rendite da dividendi non potresti acquistare anche obbligazioni insieme ad azioni velio si giovanni a quel punto guarda ti dico la mia idea è di creare un portafoglio giovanni si riferisce al momento in cui il mio portafoglio di lungo termine quindi questo questo che vedete qua aspettate fatelo vedere negli attivi questo diventerà un portafoglio per generare una rendita passiva e giustamente lui diceva non potresti prendere i le obbligazioni sicuramente il mio portafoglio sarà più diciamo così conservativo perché voglio a quel punto che sia poco volatile quindi voglio avere dentro asset che non mi fanno più il meno 20 per cento di drawdown però poi mi fanno più il più 30 per cento e si muove tanto no perché perché questo ragazzi perché nella vita non sai mai che cosa può succedere no quindi potrebbe succedere che nonostante tutta la mia pianificazione nonostante tutti i miei cuscinetti di sicurezza che mi sono preso il mio fondo di emergenza il mio fondo extra il mio fondo vacanze quello che c'ho sul conto corrente sommando tutte queste cose quello che potrebbe succedere qualcosa di grave a me o a qualche mio familiare che mi sta intorno e per esempio devo svincolare velocemente parte di quel capitale il fatto è che se devi svincolarla velocemente non vuoi che il tuo portafoglio faccia abbia una volatilità di quelle dimensioni che ti faccia almeno 20 per cento perché spesso la legge di marfi ce lo insegna quando ci sono le emergenze è sempre nel momento peggiore che avviene no quindi sicuramente quando mi accadrà avverrà nel momento in cui il mio portafoglio sta almeno 20 per cento quindi non voglio dover affrontare questa difficoltà perché io quel punto il capitale lo voglio proteggere io non voglio più toccarlo quel portafoglio di lungo termine voglio solo toccare le rendite che genera a me tirar fuori il 4 per cento con i metodi fire che conosciamo per me non ha senso perché io quel portafoglio lo voglio lasciare in eredità non voglio assolutamente consumarlo voglio consumare non lo voglio più far crescere più di tanto quindi voglio anche comprimere la sua volatilità comprimere la sua volatilità vuol dire non farlo muovere troppo quindi ci saranno aziende value aziende nel settore delle utilities aziende in settori dove i movimenti sono piccoli perché ormai i business di queste aziende sono molto robusti ragazzi le bollette le dobbiamo pagare tutti ai vari provider le bollette della luce le bollette del gas chi ci fornisce l'energia chi ci fornisce i beni di prima necessità immaginate agli agglomerati tipo una procter and gamble immaginate a coca cola immaginate a tutti questi settori dove bene o male ormai il business model è abbastanza prevedibile non crescerà più di tanto non decrescerà più di tanto e si muoverà poco all'interno del tuo portafoglio e sicuramente giovanni ci saranno anche le obbligazioni ci sarà una parte riservata alle obbligazioni se le obbligazioni pagheranno bene perché in questo momento storico le obbligazioni pagano molto bene ma magari non sarà così tra qualche anno quando il mio portafoglio si dovrà trasformare quindi lo gestirò all'occorrenza allora quanti commenti da bambini a volte madonna via veramente certi commenti sono irricevibili invece di imparare avere un valore aggiunto da ciò che dice marco guardiamo il dito quando indica la luna allora dai ragazzi andiamo avanti è vero allora allora come utilizzi al massimo i tuoi fogli excel in che senso mario sono fogli excel ti dico la verità li uso in maniera veramente banale anzi io credo di essere un pessimo utilizzatore di excel perché lo conosco magari bene dal punto di vista delle formule da quello che posso ottenere ma lo uso pessimamente in maniera veramente becera dal punto di vista della formattazione infatti i miei file excel sono bruttissimi da vedere ma come ho sempre detto devono essere funzionali quindi poche perdite di tempo dritti all'essenziale tanto devono servire a me sono strumenti per me a voi li commento quindi se c'è qualcosa che non capite la commento e non c'è problema federico mi dice ciao marco sarai all'evento di napoli a fine mese sì non vedo l'ora il 22 marzo ragazzi sarò a napoli venerdì non mancate se siete l'intorno potete fare un salto sarò a invest in napoli evento totalmente gratuito quindi non c'è da iscriversi non c'è no scusate c'è da iscriversi ma non c'è da pagare nulla e venite così ci conosciamo conoscete me conoscete gli altri della community guardate il mondo degli investimenti il mondo del trading è un mondo così solitario che questi appuntamenti sono importantissimi per far gruppo per conoscersi perché come vi dico sempre la forza della community è quella che insieme si cresce più velocemente insieme si fanno meno errori e quindi il fatto di avere un punto di raccordo in questa community e poterci community e poterci vedere in una data precisa in questo caso a napoli e probabilmente ragazzi questo sarà l'unico evento che farò quest'anno e volevo avrei dovuto dire di no avrei dovuto dire di no ma non ci sono riuscito perché adoro napoli adoro le persone di napoli adoro la città adoro il cibo di napoli ogni mi fa piacere tornare in italia non sono riuscito a dire di no ma probabilmente sarà l'unica occasione di mia discesa partecipazione ad un evento quindi se potete venite che mi fa veramente piacere ci conosciamo ci abbracciamo e ci scambiamo idee perché come al solito a me mi mettono sempre a chiusura evento perché sanno che poi il mio talk dura due ore due ore e mezza di solito a noi ci cacciano quando ci stanno smontando le scrivanie stanno facendo l'anno scorso doveva finire alle 6 abbiamo finito alle 7 e mezza 7 e 45 quindi c'è sempre tanto tanto tempo Christian mi chiedi in quanto tempo sei arrivato da 100 mila a un milione ci faccio un video perché secondo me è un percorso interessante da percorrere e da condividere e attenzione ad una cosa di nuovo ragazzi questi valori questo valore totale che vedete nella liquidità totale nello stato patrimoniale attenzione che è molto volatile cioè qui potremo fare un update settimana prossima e questo questo valore valore qua essere 800 mila e ve lo dico perché questo valore qua era intorno agli 800 mila qualche mese fa cioè sono comparsi proprio per quello che vi dicevo prima il portafoglio è estremamente orientato alla crescita e quindi riesce a fare questi sbalzi quando quando il mercato va particolarmente bene e ho aziende nel mio portafoglio che hanno un beta alto che sovra performano il mercato ed ecco che se mi fa il 20% il S&P magari il mio portafoglio mi riesce a fare il 40% no quindi questo per dire che cosa che non vi aspettate che rimanga tutto in maniera così costante certo quello che rimarrà costante più costante più fermo che sarà per esempio il mio immobile la casa questo è il valore diviso in due della casa perché la casa è a metà con mia moglie io qui nel mio stato patrimoniale ci ho messo la metà no questo sì potrebbe un pochino fluttuare potrebbe aumentare un pochino potrebbe diminuire un pochino ma mi aspetto sbalzi del 3 4 5 per cento ecco forse se dovessimo affrontare una crisi immobiliare qui ad Amsterdam magari quel 3 per cento diventa un 7 per cento ma a dire la verità casa l'ho comprata pensando a come si sarebbe comportata quindi ho studiato il settore immobiliare della zona in cui ho comprato casa per vedere come si è comportata durante le frenate o addirittura le crisi i crolli dell'immobiliare quindi in quella zona per quella tipologia di casa ho visto che la fluttuazione era piuttosto bassa quindi ci sono degli asset nel mio stato patrimoniale molto volatili e ce ne sono alcuni più piccoli tra l'altro che sono un pochino meno volatili ok allora luigi dice ragazzi a bruciare 2 milioni se non si ha una libertà finanziaria ci vuole poco conosco gente che si è bruciata anche più di 2 milioni ed è assolutamente vero luigi infatti ti dico nella mia esperienza più il mio stato patrimoniale è cresciuto i miei attivi sono cresciuti e più io sono diventato conservativo perché ho sempre di più non so se questa cosa è normale scatta in tutti ma più cresce il mio stato patrimoniale più ho paura tra virgolette di perdere quello stato patrimoniale e quindi cerco di conservarlo al meglio conservarlo al meglio vuol dire avere un approccio più conservativo che vuol dire anche banalmente limitare le spese avere un controllo rigido di quelle che sono le mie spese cercare di non spendere per cose inutili quindi potrebbe sembrare assurdo no perché magari uno dice ok più hai più puoi alzare l'asticella dello stile di vita ma quel è il rischio che io voglio evitare come la peste quella per me è proprio il pericolo in cui mentalmente psicologicamente non voglio incappare perché poi fa degli errori fare degli errori mostruosi infatti io non c'ho la macchina non c'ho gli unici miei l'unico mio vizio mio di mia moglie per fortuna è viaggiare e su quello lo sapete io abbiamo un fondo dove mettiamo da parte soldi per prenderli e fare le nostre vacanze noi facciamo due grandi vacanze l'anno più due o tre dipende dall'anno e dalle possibilità due o tre vacanze più corte quello ti direi che è l'unico vizio sì mi piace bere buoni vini mi piace mangiare buon cibo però è tutto piuttosto controllato quello poi veramente la mia vita è piuttosto semplice tolti i viaggi la mia vita è molto low profile e voglio mantenerla in quel modo voglio mantenerla in quel modo allora nel titolo è scritto conto economico altre volte ho visto il tuo conto condiviso volevo vedere la tua curva equity tutto qui allora eduardo la mia curva dell'equity la faccio vedere ogni trimestre vai sul mio canale vedi gli update che faccio con la mia curva dell'equity dei miei portafogli di lungo termine di breve termine quindi puoi vederla e il conto economico adesso ve lo faccio vedere quindi se non mi distraete troppo e sono io non siete voi che mi faccio distrarre non vi preoccupate adesso arriviamo al conto economico perché l'update di questo mese come l'update gli update che abbiamo fatto ormai da dicembre che facciamo questi video servono a che cosa servono in prima battuta a me perché quest'anno qual è il mio grande obiettivo qui chi mi segue dovrebbe saperlo il mio grande obiettivo è quello di voler raggiungere voler mettere da parte minimo 20.000 euro minimo da investire per essere pronto nel momento in cui ci sarà uno storno sul mercato quando ci sarà marco lo storo quindi il mercato adesso freneranno ci sarà un ritracciamento profondo non lo so non ho la più palida idea del quando però visto che guardo le economie globali visto che attraverso il mio servizio di analisi finanziaria che in prima battuta serve a me per rimanere sempre aggiornato c'è qualcosa che non mi torna questo grande ottimismo e questa grande euforia è estremamente esagerata rispetto alla crescita reale che stiamo vedendo a livello mondiale non solo stati uniti e europea e quindi mi son detto meglio farmi trovare pronto anche perché vi dico una cosa se il mio portafoglio è arrivato questo forse è il consiglio più importante che posso darvi pensando ad un portafoglio di lungo termine se il mio portafoglio è cresciuto bene nel tempo è perché mi sono fatto trovare pronto farsi trovare pronto per un investitore che cosa vuol dire liquidità pronta perché warren buffett a miliardi di liquidità pronta ad investire ad essere investita secondo voi in questo momento storico perché tutti quei miliardi non li investe perché in questo momento non trova opportunità lui è un value investor non trova opportunità dal valore ottimo che lui reputa ottimo non si investe quando tutto è estremamente caldo estremamente positivo no si investe quando si rientra nei ranghi della normalità quando c'è riduzione degli eccessi mi son fatto trovare pronto in momenti importanti mi son fatto trovare pronto nel 2011 mi son fatto trovare pronto nel 2000 nel 2007 purtroppo ragazzi non avevo ancora una competenza così sviluppata in termini di investimento di lungo termine perché se avessi avuto più esperienza nel 2007 nel 2007 facevo soprattutto trading e quindi quindi breve termine avrei fatto grandi affari però nel 2011 mi son fatto trovare pronto quando c'è stato il grande ritracciamento mi son fatto trovare pronto nel 2015 mi son fatto trovare pronto nel 2018 2018 barra 19 nel 2020 se seguivate le mie dirette le trovate ancora le mie dirette il bello di avere un canale questo è che potete posso andarmi a rivedere quello che ho detto ho fatto nel 2020 vi ricordate nel 2020 mi ero dato tre livelli di acquisto e mano a mano che il prezzo scendeva io compravo avevo liquidità per farlo e questa volta mi voglio far trovare di nuovo con la liquidità pronta perché in quel momento che si crea enorme valore nel lungo termine quando si riesce a prendere ad un prezzo che è fair giusto magari addirittura che è sotto al prezzo giusto giusto rispetto a cosa ai fondamentali per esempio di un'azienda quindi il conto economico adesso lo vediamo per vedere visto che gennaio non è andato benissimo vediamo se febbraio è andato un pochino meglio ok ho l'impressione che cominci a parlare da prossimo papà non c'è niente ancora che bolle in pentola ragazzi allora sto guardando ancora qualche domanda e poi e daniele mi dice come valuti il 10k della sec cosa intendi per il 10k della sec che è il bilancio annuale che le aziende consegnano cosa intendi esattamente allora facciamo conto economico ragazzi perché poi vedo un paio di domande molto interessanti oggi mi mi piacete mi stimolate però finiamo è perché altrimenti il subject del titolo cioè il titolo che ho dato al video non rispecchia poi quello che c'è dentro quindi abbiamo visto lo stato patrimoniale io ho fatto alcuni ragionamenti sul mio stato patrimoniale e continuiamo per andare a vedere le entrate e le uscite ok abbiamo commentato tutto sì vabbè i passivi c'è poco da dire tanto sono quelli li avete visti sono queste 465 questo è il patrimonio netto bene andiamo a vedere le entrate del mese allora questo mese ha le tre classiche entrate queste sono le mie tre entrate classiche ormai le conoscete uno è lo stipendio uno sono le royalties che ho sui libri che ho scritto che sono due mesi veramente che sono andati male eh non so perché stanno andando ragazzi studiate poco leggete poco forse leggete poco eh me perché erano andate molto bene qui a dicembre 359 euro e l'anno scorso avevo fatto 811 euro in totale questi due mesi sono partiti un po' fiacchi vabbè comunque sono 33 euro a gennaio e 30 euro a febbraio poi questa è l'attività di youtube che ormai è piuttosto costante eh 1406 era gennaio 1489 è a febbraio il mio stipendio è sempre lo stesso ragazzi perché ve l'ho detto quest'anno eh il mio obiettivo è quello di eh avere uno stipendio più basso perché solitamente il mio stipendio è questo eh io vivo in Olanda ricordatevelo sempre quindi pesate questi stipendi con il costo della vita che c'è qui in Olanda eh prima di dire tanto è poco o niente e eh questo era il mio stipendio costante quindi parliamo di un lordo di 56.000 ehm scusate di un netto di 56.000 euro quest'anno il netto che mi darò sarà molto inferiore perché mi sto dando 2750 euro chi mi segue lo sa lo ripeto per quelli nuovi magari quest'anno la mia azienda fatturerà di meno perché che è successo già lo sai che fatturerà di meno sì già lo so perché è una scelta consapevole fatturerà di meno perché ho cominciato a eh diciamo così chiudere il rubinetto di alcune direttrici di revenue quindi alcuni miei business model classici porteranno meno perché mi ci dedicherò di meno e perché voglio dedicarmici di meno quindi non accetto più gli iscritti al corso eh da da trader ehm sto dicendo di no a tutte quante le consulenze e quindi questo mi non sto partecipando ad eventi per quanto riguarda le collaborazioni che faccio con aziende eccetera dirò di no perché dico di no a questi soldi che è anti economico per un imprenditore perché ragazzi voglio concentrarmi su quelli che nel lungo termine ritengo essere i miei due progetti eh più scalabili il macroverse il macroverse è il mio servizio di analisi macroeconomica finanziaria eh che è unico in Italia quindi ritengo che abbia grandi possibilità di crescita e poi potrò anche tradurlo in inglese l'inglese lo parlo quindi a quel punto lo potrò vendere a livello internazionale e contest la mia applicazione quantitativa che si rivolge a chi fa speculazione di breve termine per e lo aiuta per diciamo mette insieme l'analisi macroeconomica l'analisi tecnica e l'analisi l'analisi fondamentale dell'analisi della price action per darti le aziende settori temi che hanno vantaggio statistico sia che tu sia un investitore quindi hai i tuoi portafogli cioè ci sono i portafogli rotazionali dell'intelligenza artificiale tra poco uscirà l'applicazione mobile mancano pochi giorni non vediamo l'ora ragazzi è un parto questa applicazione è sempre in lavorazione c'è un team che ci lavora costantemente e fa uscire nuove cose e su quella veramente voglio puntare perché è un'applicazione che è unica e non lo dico perché l'ho creata io ma perché prima di crearla ho guardato tutti i competitor e ho visto cosa mancava e ho voluto creare qualcosa che mancasse sul mercato quindi per adesso la sto proponendo solo al mercato italiano e sta andando bene ma la mia intenzione è di uscire dal mercato italiano e andare all'estero e quindi per poter concentrare le mie energie su questi due progetti che per me sono di lungo termine e scalabili devo dire di no agli altri quest'anno dire di no agli altri progetti vorrà dire fatturare di meno probabilmente le rim e le mie revenue le revenue della mia azienda si dimezzeranno lo so è difficile da accettare da affrontare ma è una scelta consapevole l'ho fatta pensandoci tanti tanti mesi capendo cosa a che cosa dire di no e che cosa invece continuare e quindi mi son detto se le revenue della mia azienda dimezzano beh dovrebbe dimezzare anche il mio stipendio mi pare giusto che io pesi di meno sulla mia azienda in modo tale che non sia che non che non sia affossata dai miei costi e questo il motivo per cui guadagno questa cifra qui che vedete 2750 quindi questo mese ho avuto anche dei rimborsi 792 euro di rimborso questa è questi rimborsi sono cose che ho acquistato personalmente cioè ho acquistato con la mia carta di credito il mio bancomat ma che posso scaricare con l'azienda in realtà una di questi costi ragazzi è un servizio che pago su internet non è passato il pagamento con la carta di credito aziendale e quindi l'ho dovuto fare per non perdere il servizio l'ho dovuto fare con la carta di credito personale e quindi mi sono ripreso i soldi e banalmente me li sono ridati quindi li trovate qua mi erano usciti da una parte mi sono rientrati quindi questo mese ragazzi la sommatoria è di 5000 anzi facciamo così mettiamola come abbiamo fatto come facciamo sempre mettiamola qui dentro quindi adesso qui mettiamo febbraio sulle entrate ci mettiamo la sommatoria quindi la sommatoria delle entrate qua che sono queste tre e ci abbiamo le nostre entrate ora andiamo a vedere le uscite il mese scorso ragazzi non è andata benissimo no perché meno 799 euro quindi vi direi che non sono riusciti non solo non sono riuscito a risparmiare nulla ma addirittura sono andato in negativo di quasi 800 euro cosa è successo il mese scorso mese scorso abbiamo avuto due cose che si sono concentrate due grandi spese e le spese del viaggio delle vacanze quindi quelle hanno influito sul mio conto perché sono arrivate lì alcune spese del mio viaggio e la seconda cosa era l'assicurazione sulla salute perché qui in olanda è obbligatoria l'assicurazione la mia assicurazione costa circa 1800 euro quindi io il mio rendiconto economico è per cassa quindi vado per cassa alcuni dividono per 12 questa spesa giusto da un certo punto di vista io preferisco andare per cassa e quando mi arriva quella spesa la metto lì quindi quel mese è andata male andiamo a vedere le spese le uscite così vediamo se questo mese sono riuscito a risparmiare qualcosa allora torniamo qui vi ricondivido lo schermo e innanzitutto ragazzi già vi dico che non è andata come volevo qualcosina siamo riuscito a risparmiarla per fortuna questo mese però non sta andando benissimo quindi il mio piano di risparmiare questi 20k 20.000 euro comincia a diventare difficile andiamo a fare la somma delle spese di febbraio eccole qua eccole qui si ferma qui febbraio e quindi veniamo ad un positivo di 530 euro un po pochino ai ragazzi veramente veramente pochino considera che per arrivare a 20k io devo salvare 2.000 euro al mese ora già so per come stanno andando le cose vedendo i miei costi che non ci arrivo a meno che non comincio a considerare delle rendite delle revenue ulteriori quindi adesso devo un attimo pensare da dove farle uscire perché non voglio farle pesare sulla mia azienda quindi sto cercando di pensare magari dico di sì ad alcuni progetti che poi fatturo con la mia partita iva personale invece che fatturare all'azienda però la verità è che le cose non stanno andando benissimo ma di nuovo la verità ragazzi è che in Olanda per vivere con 2750 euro di stipendio non è facilissimo considerando che comunque io ho mutuo di che se ne porta via quasi mille quindi di queste mille se ne vanno per il mutuo sì è vero c'è c'è youtube e ci sono le altre cose però la verità è che è un po' tosto quindi devo alzare un pochino le mie le mie entrate e ho già un paio di idee e ve le condividerò la prossima volta però dai quest'anno almeno piccola pacchetta sulla spalla 500 euro messe da parte però considerate che avrei dovuto se ci pensate no avrei dovuto mettere da parte torniamo qui alla dashboard avrei dovuto avere già 4000 euro e invece qui ce ne ho meno 268 di euro perché meno 400 meno 799 gennaio più 530 quindi comunque il torna conto è è negativo e vabbè dai ce ne facciamo ce ne faremo una ragione ok allora credo di aver finito l'update torniamo un po' a qualche vostra domanda allora danni mi dice ciao marco avendo un portafoglio a lungo termine quando ci sono delle condizioni ribassiste logicamente sono entrato long con i miei vari posizionamenti per riequilibrare il portafoglio invece di vendere invece di vendere o riacquistare quant'altro è possibile diciamo così riposizionarsi in maniera tale da acquistare solo quelle azioni e quel quelle azioni etf cripto che in quel trimestre diciamo così sono in asceso oddio danni ho fatto un po' fatica a capire la domanda ridicola verità però penso di riuscire a risponderti se ho intuito bene quello che mi volevi chiedere un portafoglio di lungo termine è un portafoglio che deve affrontare nel tempo i vari regimi cicli economici le varie fasi dei cicli economici c'è poco da fare ok quindi sai che ci saranno momenti in cui magari siamo in espansione economica l'economia sta andando bene le revenue delle aziende crescono i consumatori spendono e va tutto bene tutto cresce ci sono dei momenti in cui c'è meno confidenza c'è meno il consumer sentiment non è così positivo le vendite al dettaglio diminuiscono le vendite di alcune aziende magari proprio quelle che nel portafoglio soffrono soffrono di più bene in quel momento il tuo portafoglio sarà stagnerà o addirittura andrà in drawdown ed è normale non è che tu puoi vendere ogni volta che scendono del resto quando metti un'azienda nel portafoglio la metti con un orizzonte temporale di lungo termine quindi l'hai messa non perché hai paura possa scendere del 10 per cento ma perché hai stimato facendo lo studio dei bilanci usando le la matematica per definire le potenzialità di crescita ha stimato che effettivamente si poteva andare a poteva crescere nei prossimi dieci anni quindi tu vuoi catturare quella crescita decennale ha detto dieci anni potevano essere cinque sette comunque un orizzonte lungo no tu l'azienda quindi il portafoglio teoricamente non lo tocchi a meno che non siano cambiati i presupposti iniziali per cui quell'azienda l'hai aggiunta io ho aziende che mi stanno facendo soffrire adesso nonostante il mio portafoglio stia andando bene ragazzi io ho paypal dentro il mio portafoglio che attualmente è in drawdown non è al prezzo a cui si trova adesso l'azienda quindi sono in perdita su quella paypal o alibaba che è in perdita in questo momento no per dirvene due però c'ho anche invidia però ho anche amazon però c'ho anche microsoft e quindi come al solito perché diversifichi un portafoglio proprio per andare non subire il fatto che un'azienda possa scendere se avessi avuto un portafoglio solo paypal e alibaba adesso erano guai ma avendo più aziende in più settori in più geografie diverse io le tengo e faccio fare il loro corso anzi magari se il prezzo di un'azienda tipo paypal mi scende a un certo punto se mi continuano a convincere i presupposti per cui l'ho aggiunta posso anche decidere di continuare a comprarla e abbassare il prezzo medio giusto quindi non so se era questa la domanda che mi hai fatto tommy dice passo per roma dopo napoli o prima no tommy guarda dovevo barra volevo ma non ce la faccio non in questo periodo veramente avrei dovuto dire di no a a a investi in napoli e quindi andrò direttamente a napoli cioè il volo diretto amsterdam napoli napoli amsterdam allora lei mi chiede marco ma se il portafoglio di lungo termine a sbalzi importanti come dici riesce a ribilanciare con la sola liquidità generata dal risparmio seguendoti e sapendo i numeri mi è venuto il dubbio allora devi considerare che il mio portafoglio è un portafoglio non di liquidità ma è un portafoglio a margine quindi comunque quei 20k si trasformano in non lo so 40k quindi è più il potere di acquisto che ho in realtà non è proprio così la formula è più complessa no perché dipende dall'azienda che compri dipende se quell'azienda già ce l'avevi quindi già ti dico che il potere di acquisto è maggiore di quello che metterò sul conto perché è un conto margine quindi diciamo c'è una leva che mi dà a disposizione il mio il mio broker e questa è la prima osservazione poi sì è vero che ha sbalzi importanti quindi c'ha drawdown anche del 30 per cento forse storicamente ho fatto anche più del 30 per cento di drawdown per il lungo termine ma è vero che la composizione del portafoglio è così altamente diversificata in termini geografici e settoriali che nel tempo quel portafoglio a meno che non ho fatto grandi errori e almeno questi errori in questi anni difficili anche che hanno dovuto affrontare non sono emersi il portafoglio cresce cresce al netto di momenti in cui magari mi fa il meno 25 per cento il meno 30 per cento adesso però l'età la capacità e la mia la mia tolleranza a rischio che mi permette di poter affrontare serenamente quei drawdown e magari aspettare due anni prima di recuperarli tre anni prima di recuperarli ce l'ho quel tempo ok quindi uso il tempo a mio favore il tempo è sempre al nostro favore sempre perché le economie la maggior parte delle economie tendono a crescere nel tempo a meno che non si andrà a pescare un'economia stagnante o peggio si è presa un'economia giusta ovvero un paese giusto ma si è presa l'azienda sbagliata però quelli sono errori diciamo di tipo ehm conoscitivo cioè la tua conoscenza non ti ha permesso di individuare il paese giusto e il settore giusto e l'azienda giusta puoi sbagliare immagina di avere un portafoglio diversificato con non lo so 20 aziende 25 aziende sì ok due o tre errori li puoi fare ma c'hai altre 20 aziende poi quindi ne hai sbagliate due o tre ma ce ne avrai 18 17 che vanno bene giusto Emanuele mi chiede qualche sito di riferimento per tracciare l'andamento del prezzo dei degli immobili in Italia o fai riferimento ai dati statistici di mercato guarda Emanuele uso quello che sono le fonti ufficiali quindi l'agenzia immobiliare rilascia i dati Banca d'Italia rilascia i dati listat rilascia i dati questi e poi ci sono le ehm diciamo ehm le associazioni eh che che spesso li rilasciano dei report e quindi uso questi dati qui non ho nessun altro tipo di ehm di dato che vado a reperire in altra maniera Emanuele dice Marco per quanto riguarda i figli non decidi tu bensì la tua compagna come tutti preparati perché non serve studiare è così ma Emanuele lo so e Viviana anche lo sa perché è una cosa che gli ho sempre detto le ho sempre detto cioè quando vorrai te deciderai te sì e quando quindi ho preceduto il problema non 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 mettendomelo su sul tavolo il problema ok Marco just for info dove vivi ad Amsterdam vivo ad Amsterdam da ormai tutti sei sette anni ehm 2024 questo dovrebbe essere il settimo anno giusto? sì allora allora LB dice proteggere il portafoglio azionario con delle call a senso in questa fase non c'è la risposta giusta a questa osservazione ti faccio però ragionare su una cosa tutti quelli che vogliono difendere un portafoglio fare hedging difendere un portafoglio di lungo termine devono sapere che stanno facendo e applicando strategie processi e tecniche di breve termine quindi se non conosci come affrontare il mercato di breve termine e non sai esattamente quello che stai facendo perché l'hai studiato è più facile che fai danni quindi quello che ti dico è sei anche oltre ad essere un investitore di lungo termine hai anche conoscenze per far trading di breve termine per essere speculativo sapere cosa può succedere nel breve termine perché sono due mondi completamente diversi ragazzi mentre nel lungo termine è più facile prevedere che cosa potrà succedere in termini di crescita di un'azienda nel breve termine cambia tutto non è che è un gioco diverso è uno sport diverso quindi ti chiedo è uno sport a cui sai giocare è uno sport per il quale ti sei preparato se la risposta è sì perfetto ottimo può può essere una io ogni tanto lo faccio perché io nasco come investitore speculativo io nasco come trader ho fatto i primi anni della mia attività solo trading poi sono diventato un investitore negli anni aumentando le mie conoscenze quindi diciamo che lo posso fare perché ce l'ho quella competenza spesso purtroppo vedo farlo da investitori anche bravi che si improvvisano speculatori e fanno solo i danni allora fatemi bere un attimo ragazzi alberto mi dice marco affitta la barca ad ore la mia barca non è fatta per essere affittata nel senso che è piccolina non ci farei una lira un attimo ragazzi che sto parlando da tanto tempo c'ho la gola secca allora allora c'è simone c'è simone che mi fa una domanda evidentemente dopo aver visto il mio stato patrimoniale qual è la cifra che quando l'avrai raggiunta ti farà sentire ricco cavolo questa è una mega domanda è una mega domanda se ti avessi risposto una quindicina di anni fa ti avrei risposto dicendoti una cifra di cui ero sicuro tra l'altro questa cifra oggi l'ho raggiunta e ti dico che è completamente sbagliata rispetto a quello che voglio ottenere rispetto al mio stile di vita e a quello che voglio dalla vita e dal resto e lasciami ti risponditi dicendo una cosa che mi sento ancora lontano da poter per me allora cominciamo a dire che essere ricco o povero non vuol dire niente perché quella è un'etichetta no è un'etichetta che usiamo a livello sociale quindi essere ricco benestante o povero in Italia è diverso da essere ricco povero benestante in Thailandia che è diverso dall'Olanda su questo ci siamo quindi è qualcosa di estremamente soggettivo prima considerazione importantissima da fare è qualcosa di estremamente personale che non dipende solo dalla geografia ma dipende anche da da te quindi cosa vuol dire per me essere ricco te lo dico qual è per me la ricchezza ricchezza è pieno controllo e gestione della tua situazione finanziaria avere attivi avere progetti che generano una rendita che sono svincolati dal tuo tempo e non dover scambiare il tuo tempo per soldi quindi avere controllo tempo e indipendenza essere libero sulla sul modo in cui puoi scegliere di usare il tempo ecco questi sono i tre punti che secondo me possono definire oggi dopo la mia esperienza dopo la vita che ho fatto possono farmi dire sono ricco non sono ricco e quindi rispetto ti rispondo rispetto a questi tre punti quindi no non sono ricco non mi sento ricco mi sento di stare facendo un percorso mi sento che questo percorso a questo percorso manca ancora un po' però ok e te lo voglio far vedere in che modo allora guarda te lo faccio vedere ti faccio un disegno perché è un po che non disegno ok quindi voglio voglio disegnare dove c'ho la penna eccola qua dovresti vedere ho perfetto ti faccio vedere dove voglio arrivare allora conosciamo tutti il fammi disegnare fammi disegnare tre box come la facciamo fatemi pensare allora questo è un box questo è un altro box poi abbiamo qui un altro box e qui ancora un altro ora vi spiego che cosa sono fatemi creare un nuovo livello in modo che questo ce lo segniamo perfetto bravo bene e anzi facciamo così disegniamo prima qui questo che cos'è questo è il nostro income statement queste questo qua queste due qua sono il nostro income il conto economico eh ragazzi e questo è il nostro queste due cose qua è invece il nostro stato patrimoniale il balance sheet se fossimo un'azienda giusto così lo chiamano però noi lo chiamiamo stato patrimoniale bene ora qui dentro che cosa ci sta già lo sapete no qui ci sono le entrate e qua ci sono le uscite e qui che c'è qui ragazzi ci sono gli attivi ci sono i passivi che è quello che abbiamo visto oggi giusto bene adesso mi posso mettere sul nuovo livello in modo che questo ci rimane facciamo lo scenario cambio colore mettiamoci un bel arancione e dovreste vederlo sì ok scusate che tolgo il commento di Simone quindi che cosa succede eh facciamo lo scenario di un diciamo così bilancio totale tra income statement e balance sheet di una persona povera e non voglio parlare di cifre eh non parlo di cifre vi parlo proprio di come è strutturato un bilancio di una persona povera il bilancio di una persona povera funziona in questo modo entrate quindi qui vi arriva il vostro stipendino stipendio più o meno grande qui ci avete le vostre uscite e qui i vostri soldi se ne vanno cioè i vostri soldi non passano negli attivi non ci avete nemmeno passivi perché perché siete poveri fondamentalmente che cosa vuol dire che tutto quello che entra esce addirittura a volte succede questo che vi entrano dei soldi cominciate a spendere non vi bastano andate qui nei passivi cioè fate debito e poi escono quindi fondamentalmente addirittura siete negativo cioè spendete più di quello che guadagnate questo ragazzi è il bilancio di una persona povera e fatemi dire una cosa non dipende da quanto guadagnate uno pensa sempre ad un bilancio di questo tipo nel momento in cui guadagna sì vabbè questa persona guadagna 800 euro no non funziona così io ho visto persone con questo tipo di di gestione delle proprie finanze con guadagni da superiore ai 5.000 euro ok piloti di aerei che solitamente prendono 7 minimo 7-8.000 euro non riuscire a mettere da parte niente quindi questo è la situazione da cui ci dobbiamo allontanare vi dico la verità per fortuna non è la situazione in cui mi trovo io ok però questa vi ho voluto far vedere la situazione peggiore bene ora vediamo se riesco a cancellare solo questo eh cancella oh perfetto è esattamente quello che volevo scenario 2 lo scenario 2 è quello di vi direi di una come lo possiamo chiamare benestante la middle class non saprei dire in italiano diciamo benestanti che cosa come sarà in che modo sarà diverso qui avete il vostro lavoro quindi avete il vostro stipendio che entra il vostro stipendio che entra paga delle passività che avete magari qui ci avete il mutuo magari qui ci avete la macchina la rata della macchina eccetera qui ci sono le vostre uscite nel vostro conto economico che sono i costi della vostra vita e qui si esce quindi diciamo che le vostre entrate riescono a coprire i passivi e magari questi passivi qualche genere qualche attivo lo generano no potreste pensare alla casa la macchina attenzione che ed è qui la prima differenza ragazzi che vi voglio portare che le persone povere e le persone la classe media fondamentalmente raggruppiamola un attimo compra passività pensando che siano attività la macchina che vi comprate è una passività ok la prima casa che vi comprate è una passività e ora non cominciamo a dirci sì ma dal punto di vista emotivo per me è importante avere le radici la casa mi realizza quello che volete voi dal punto di vista dello stato patrimoniale è un passivo punto la prima casa se poi è una casa che affittate magari è una prima casa dove voi abitate c'è ci sono due stanze che vengono invece adibite a Airbnb ok quindi non è più un passivo quello è un attivo perché sì è vero ci vivete voi ci pagate il mutuo ma magari quel mutuo se lo paga in parte anche genera un reddito no? ora vi faccio vedere diciamo che questa è non voglio dire che è la mia fase però io vado subito oltre a questa fase qui ed è quest'altra diciamo questo è lo scenario di una persona che sta arrivando alla libertà finanziaria quindi non è più classe media non saprei come chiamarla non è nemmeno però classe ricca ricca meno meno ok mettiamola mettiamola così come funziona ricca meno meno? funziona che tu hai delle entrate queste entrate le usi per generare degli attivi perché qui magari investi ai tuoi bei portafogli qui ai tuoi magari investimenti immobiliari eccetera eccetera li usi anche per pagare dei passivi per pagarti le uscite e ovviamente qui ci sono anche i fondi emergenza ci sono i risparmi perché quelli fanno sempre parte degli attivi eh no ve lo ricordate questo è il conto economico adesso è inutile che lo ripetiamo perché sono cose che sapete se avete eseguito la prima parte della diretta oggi anche se è la prima volta che le vedate le avete capite però vedete questa è dove mi trovo io almeno mi sento di trovarmi in questo in questo stadio cioè ho delle entrate ho degli attivi questi attivi producono per ora dei rendimenti ma questi rendimenti per ora rimangono qui dentro non li uso bene torna alla tua domanda tu mi hai chiesto Marco ti senti ricco non mi sento ricco perché mi sento che da questo da questa fase devo passare alla fase successiva che è quello per cui sto lavorando è quello che vi ho detto anche oggi allora qual è ve la disegno è questa ragazzi è quando questa per me sono le persone ricche ovvero completamente indipendenti e quando qui avete attivi immaginate portafogli immaginate affitti da case immaginate royalties da non so libri musica eccetera immaginate un progetto la mia applicazione contest applicazione contest eccetera questi attivi nello stato patrimoniale generano delle entrate ok che poi vanno ci sono delle uscite perché c'è sempre del costo della vita e queste uscite però sono inferiori ovviamente alle entrate e le entrate magari riesco non solo a coprirmi tutte le uscite ma riescono a pagare i passivi e magari a continuare a mettere da parte quindi questa è la fotografia a cui voglio tendere che voglio raggiungere ok quella in cui fondamentalmente mi devo concentrare di più sulla costruzione di beni di asset che poi possono andare a crearmi reddito passivo è questo quello a cui sto puntando ecco perché se devo rispondere alla tua domanda no non sento che mi ci sono arrivato sento che ci sto andando il portafoglio di prima te l'ho fatto vedere ti rimetto lo stato patrimoniale eccolo qui e ti rimetto qui lo stato patrimoniale andiamo agli attivi qui c'ho un portafoglio di lungo termine un portafoglio di breve un portafoglio di cripto ho i miei fondi di emergenza i miei fondi extra ho il valore della casa che è la cosa più grande poi qui ci metto la barca si ok ci metto la bici ma giusto questo per per farvi vedere che cosa ci va negli immobili ok questa è liquidità a tutti gli effetti eh nel nello stato nel balance sheet stato patrimoniale è completamente liquidità questa liquidità la sto diciamo così far crescendo reinvestendola eccetera per arrivare ad un certo punto allo schema di poco fa cioè lo schema in cui lo schema in cui i miei attivi magari la mia prima casa non è la casa in cui vivo perché l'ho messa in affitto e mi genera un affitto e quindi delle entrate il mio portafoglio di lungo termine mi genera un ehm un dei dividendi che mi pagano eccetera quindi questo è quello a cui sto appuntando però non ci sono ancora mi sentirò ricco che per me non vuol dire niente se non avere controllo totale delle tue finanze riuscire a generare a svincolare il denaro dal tuo tempo e avere controllo sul tuo tempo questo per me vuol dire essere ricco quindi voglio che questa etichetta nel mio caso sia utilizzata nel modo giusto me ci sentirò quando avrò raggiunto quello il mio obiettivo è tra meno di una decina d'anni vediamo se se ci riesco ok magari ci metto di meno magari ci metto di più però vi direi che la strada percorsa è quella giusta e attenzione questo non vuol dire questo non vuol dire che poi smetterò di lavorare questo concetto vorrei lo stresso perché vorrei fosse importante cioè io non immagino la mia vita al raggiungimento della indipendenza finanziaria senza portare avanti qualcosa perché sarei per me quella non è vita quella è morte quindi continuerei a portare avanti le mie passioni continuerei a portare avanti i progetti che mi piacciono però con un approccio più rilassato con la possibilità di dire oggi mi prendo da oggi al prossimo mese me lo prendo sabbatico me lo posso permettere se lo può permettere la mia famiglia non abbiamo bisogno di dover lavorare o di interrompere il lavoro per quel mese perché le entrate continueranno ad entrare a quello voglio puntare ma voglio continuare a portare voglio svegliarmi la mattina che non vedo l'ora di dover fare delle cose e fare delle cose per me non vuol dire stare davanti alla playstation a giocare o guardarmi tutte le serie di netflix perché quella per me è niente cioè quello per me oggi è svago c'ho mezz'ora che devo un attimo liberare il cervello da tutto quello che sta facendo a cui sto che sto portando avanti ok leggo o mi guardo un film o mi guardo gioco 20 minuti a qualcosa Matteo dice non sono ricco ma ricco meno 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 grazie complimenti per la spiegazione guarda Matteo attenzione ad una cosa e lo ribadisco non è una questione economica è una questione di come generi le tue entrate quello secondo me ti fa ricco o non ricco e non c'entra niente da quanto guadagni o da quanto hai perché qui torniamo allo schema di poco fa questa roba qua potrebbe anche portarmi 2000 euro al mese giusto questi attivi qua potrebbero portarmi 2000 euro al mese esentasse e secondo voi guardando questi 2000 euro direste che quello è un bilancio di una persona è uno stato patrimoniale di una persona ricca o povera direste probabilmente media 2000 euro si ok si guadagnano ma non è l'importo è il come viene generato quel denaro quella quella revenue che è importante questo voglio passi come pensiero come argomento ok ok Matteo dice se questo è benestante sono già sicuro di essere ricco bene buon per te Matteo sono contento e siamo tutti contenti no per quello siamo qui e lavoriamo per quello se tu già l'hai raggiunto bravo complimenti io ancora no però piano piano ci arrivo Federico Marco consiglio di fare i primi approcci per una conoscenza intanto minima per un giusto percorso di investimento a lungo breve termine Federico studiare leggere libri guardare video fare corsi se te li puoi permettere sono questi i modi non ci sono scorciatoie col tempo ti servono mesi in cui studi eccetera quindi c'è un sacco di letteratura ci sono un sacco di video ci sono un sacco di articoli ci sono un sacco di libri ci sono un sacco di corsi decidite qual è il percorso ognuno decide quale debba essere il suo percorso didattico per alcuni apprendere in maniera da autodidatta è la scelta giusta perché l'hanno sempre fatto nella vita perché sono abituati a studiare perché sono abituati ad imparare le cose in autonomia ad altre persone serve una guida serve qualcuno che li guida un mentore un insegnante eccetera quindi questo lo sei te che persona sei lo sei te decidi il tuo percorso Alberto mi dice come sei arrivato a decidere di iniziare a diversificare gli investimenti immobiliari anziché azioni Alberto ti dico che a un certo punto è da pochi anni che questo pensiero è diventato importante per me ma credo che sia diventato importante da pochi anni solo perché è cresciuto il mio capitale fino a che il mio capitale era piccolo 50 100 200k non sentivo la necessità di essere troppo esposto solo in ambito finanziario quando è diventato più grande mi sono detto no è un po' troppo ok avere tutta questa concentrazione in ambito finanziario è un rischio che non voglio e quindi ho sentito l'esigenza la sento ancora perché ancora adesso sono sbilanciato troppo sul fronte finanziario me la sento ancora infatti credo che a breve quando si ripresenterà l'opportunità soprattutto quando il mercato immobiliare farà una bella frenata perché voglio farlo voglio prendere bene comprare bene perché gli affari in immobiliare si fanno quando si compra non quando si vende farò un altro investimento immobiliare sicuramente però non è questo il momento non perché non ho la liquidità o la possibilità economica ce l'ho ma non è il momento storico giusto per farlo già mi sono comprato casa tre anni fa e era un buon momento dal punto di vista dei tassi meno buono dal punto di vista dell'immobiliare come settore qui almeno qui ad Amsterdam da me allora Marco perché sei andato via dall'Italia anche io ho intenzione di farlo guarda Luca credo di aver fatto almeno un paio di video sul mio canale in cui ti racconto le motivazioni per me è stato qualità della vita volevo avere una qualità della vita migliore della vita che avevo a Roma Roma è una città difficile bella ma se ci lavori e ci vivi è una città che è difficile che è una città che ti fa stare sempre in ritardo è una città che è pesante e quindi è grande è enorme c'è traffico gli spostamenti sono difficili quindi è una città che poi non ti fa vivere la città volevo qualcosa che fosse invece più a dimensione d'uomo e possibilità momenti e opportunità mi hanno portato qui ad Amsterdam dove la qualità della vita è molto molto alta infatti da sette anni vivo qui senza macchina faccio tutto quanto a piedi e in bici la città è praticamente un paesello per me che sono che vivo vengo da Roma Amsterdam è grande come due quartieri grandi di Roma anche come popolazione qui ad Amsterdam siamo meno di un milione di persone a Roma dicono che siamo cinque milioni ma ne siamo almeno sei di milioni quindi le mie scelte sono state di questo tipo perché qui non ho nessuna convenienza fiscale non ho convenienza negli investimenti e niente il costo della vita è altissimo quindi non c'ho quel tipo e non l'ho scelta per quello in questo momento della mia vita è importante in questo momento della mia vita è importante e do più importanza alla qualità della vita che vivo ma invidia non stai vendendo ora ragazzi ne ho già parlato di invidia e vi ho detto che già l'ho alleggerita due volte nel mio portafoglio non l'ho tolta l'ho alleggerita perché non c'è nessun motivo per cui la debba togliere i presupposti iniziali che mi avevano fatto metterla erano e persistono rimangono e ovviamente quando io avevo già chiuso qui intorno ai 4,10 4,20 avevo alleggerito perché era diventata troppo pesante e ho alleggerito qui sopra sugli 800 però ce l'ho ancora nel portafoglio e me la tengo non ho intenzione di toglierla però l'alleggerisco perché se mi comincia a pesare il 10% del mio intero portafoglio non va bene perché perché va bene finché sale ma poi a un certo punto scende perché ragazzi tutto scende non voglio esporre il mio portafoglio ad una volatilità di un'azienda che mi pesa il 10% Antonio mi dice il trading come lo calcoli nel tuo balance è facile Antonio te l'ho fatto vedere ma te lo rifaccio vedere non ti preoccupare lo considero qua portafoglio di breve termine se mi segui sai che i profitti che faccio con il trading finiscono in due punti ok all'interno della mia liquidità perché io ogni anno tolgo le performance e le metto in parte nel fondo vacanze e in parte dentro al portafoglio di lungo termine perché io col trading non ci devo vivere perciò quello che faccio lo metto qui dentro l'anno scorso avrei visto il mio ultimo video che ho fatto sulle performance di fine 2023 ho fatto circa il 34 37% non ricordo ma c'è il video le ho usate per la mega vacanza che ci siamo fatta con Viviana e le ho usate rimpolpando il portafoglio di lungo termine quindi io ogni anno nel portafoglio di lungo termine metto i profitti del breve perché faccio questo perché così la mia pensione quello che mi sono progettato come pilastri della mia indipendenza finanziaria si avvicina sempre di più non vivrai mai di trading ricordati una cosa se vivi di trading stai vivendo di uno stipendio il tuo datore di lavoro sono i mercati finanziari io non voglio essere un dipendente non voglio essere un dipendente in un'azienda non voglio essere un dipendente dei mercati finanziari perché ti ho detto prima ti ho fatto vedere prima a che cosa punto dal punto di vista del reddito lo sai perché dico questo perché se fai trading devi stare davanti ai grafici ore e ore e ore ore e ore e ore quindi non è vero che quello è una rendita passiva la rendita passiva è il dividendo che mi stacca Coca Cola il dividendo che mi stacca Enel quello è una rendita passiva non quello che faccio col trading perché quello che faccio col trading me lo devo sudare richiede tempo davanti al monitor e io sto allontanandomi da quel modello il modello che scambia tempo per soldi invece ho voluto usare il trading in questo modo come generatore di aumento del mio capitale che però poi uso in altro modo allora seconda casa sempre ad Amsterdam non lo so Gigi ci devo pensare ci penseremo quando arriverà il momento di certo in Italia la vedo un po' dura soprattutto se la voglio mettere in affitto a lungo termine non è l'Italia il paese giusto per farlo ciao Florentin che si è collegato dopo la palestra quando vieni in Canada non c'è il programma di venire in Canada sono stato già a Toronto a dire la verità per un evento ma in questo momento non ce l'abbiamo in programma allora ragazzi queste domande qua ho visto che ci sono domande sulle opzioni domande sulla situazione in regime economico eccetera queste facciamocele nelle dirette alle 13 e 30 qui parliamo di finanza personale un pochino più a livelli un po' più 360 gradi Florentin dice Marco ma per come ti ho conosciuto io negli ultimi tre anni da quando ti seguo non ci penso minimamente che tu andrai in pensione la tua pensione sarà come quella di Munger e Buffett a 100 e ancora qui può darsi finché mi divertirò ragazzi finché ve lo dico sempre finché sarà una passione mi divertirò e vorrò farlo sempre qui mi troverete qua sul canale con le mie newsletter con i miei report del macroverse finché mi andrà per ora mi va mi va mi piace e continuiamo allora Lorenzo guarda stavo per staccare la diretta perché ho da fare una cosa devo fare la valigia perché domani parto domani ragazzi vado non vi preoccupate ci abbiamo i video quindi rimanete sul canale domani pubblichiamo i video domani c'è un bellissimo video che pubblichiamo alle 13 e 30 non ve lo perdete però devo andare a fare la valigia perché domani mattina devo partire e vado in Arrabbia Solita a vedere il Gran Premio quindi questa domanda è una buona domanda grazie Lorenzo per averla fatta ci vediamo alla prossima diretta e ti rispondo se ritorni qua con questa domanda che mi piacerebbe parlare di questo ok così a occhio e croce 300.000 euro liquidi con un patrimonio 25 anni senza figli compri casa o investi tutto se investi come si utilizzerebbe la liquidità in questo periodo storico vabbè è una domandona Lorenzo non va trattata di fretta quindi ci vediamo qui a una prossima diretta ti prometto che se vieni mi rifai la domanda ti rispondo ok Giuseppe dice vieni a vivere al sud hai un pie un prize earnings basso per vivere vero e si vive da paura non scherzarci su questa cosa perché è un mio pallino nella testa io lo adoro il sud lo adoro dai ragazzi mi vado a preparare la valigia io vi ringrazio per la partecipazione oggi è stata veramente interessante grazie per le domande per lo scambio come al solito ve lo dico sempre è uno scambio per me non è solo io che vi racconto di quello che ho in testa di quello che faccio ma è soprattutto leggere voi vostri consigli anche vostre critiche costruttive a me piacciono le critiche costruttive mi piacciono perché mi mettono in difficoltà e mi costringono a pensare le critiche fine a se stessi quelle degli hater di meno però per fortuna qua invece non ce ne sono quindi va benissimo bene ragazzi io vi auguro una fantastica serata noi ci vediamo prestissimo buona gestione del denaro buoni investimenti e buon trading a tutti ciao ciao